L'area di Trentova-Tresino appartiene alla comunità agropolese. Questa mattina è stato firmato il contratto per il passaggio di circa 72 ettari di terreno, comprensivo anche di alcuni fabbricati dalla società Italia Turismo al comune di Agropoli. È l'ultimo atto di un inter iniziato nel 2013 quando la giunta comunale diede mandato al sindaco Franco Alfieri di avviare le trattative per l'acquisizione al patrimonio pubblico di una delle più suggestive zone del Cilento Costiero, un'area di grandissimo pregio che al contempo patrimonio unesco, riserva di biosfera, ma buonesco, sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale. Oggi è un giorno storico, ha detto il sindaco Franco Alfieri. L'area di Trentova è una delle più belle e interessanti della città ed è una risorsa unica da un punto di vista ambientale, naturalistico e paesaggistico. Il costo dell'esproprio dei terreni è di circa 800 mila euro. Per l'area è previsto un progetto di valorizzazione per circa 11 milioni di euro che saranno impiegati per il recupero dei percorsi naturalistici, il restauro edilizio degli fabbricati esistenti. Proprio sul progetto però che l'amministrazione comunale intende portare a termine per l'area di Trentova-Tresino sono nate alcune polemiche nei mesi scorsi che portarono anche alla nascita di un comitato per la difesa di Trentova-Tresino. Un gruppo di cittadini in particolare teme che l'area possa essere soggetta ad una speculazione edilizia e che si possa portare avanti il progetto di realizzazione di un campo da golf con annesso parcheggio da 500 posti. Il primo cittadino però ha precisato che il Consiglio Comunale ha approvato una variante urbanistica che ha trasformato l'area di Trentova da edificabile a inedificabile, avviando le procedure di acquisizione al patrimonio pubblico e bloccando ogni possibile edificabilità fino ad oggi possibile secondo il PDF vigente. Ciò dovrebbe garantire la tutela del luogo per il quale il primo cittadino ha previsto la piantumazione di alberi in collaborazione con il parco e la sistemazione dei sentieri esistenti, qual è primo passaggio successivo all'acquisto.